Io so già quello che state pensando voi, Luke dove sei? Luke che cosa hai fatto in questo tempo? Perché non hai caricato video? Lo sai che questa è una mancanza di rispetto nei nostri confronti? Ragazzi lo so, purtroppo non ho più idee, cioè non registro questo video proprio per dirvi non ho più idee Ho provato a sbattermi per trovare la scheda video migliore che potessi comprare, l'ho comprata Ho spiegato 530€, ragazzi, 530€ non è cambiato quasi nulla Ho provato a, non lo so, cercare idee su internet, cercare magari qualche video americano Ma non, veramente non ho trovato nulla Non ho trovato idee sul contenuto del gaming, ma forse mi sta arrivando qualche idea Mi sta arrivando nel cervello, in questo cervello di me, qualche idea per YouTube Per magari video vlog, per sfide, magari challenge e cose Non voglio, sinceramente ho arrivato a questo punto, non voglio più fare gaming Perché non mi ispira più, ragazzi, cioè la postazione non mi ispira più I video proprio non mi ispirano più, nel senso non so più che cosa fare, ragazzi Ho provato a sollecitare questa cosa, ho provato a fare quello che si può fare Guarda, ho provato a fare proprio quello che si può fare di più, ok? Ho provato a fare di più di quello che potevo Non ho risolto un capo Non ho risolto un capo Ora adesso mi dovete dire voi Come faccio io a caricare video se non ho idee in mente Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa vorreste vedere nel mio canale Perché sinceramente arrivato a questo punto non ho più idee in testa E mi sono messo qua a registrare dal nulla, proprio dal nulla Da un momento all'altro ho preso la fotocamera L'ho messa qua, tra l'altro fotocamera anche di me È una fotocamera di me, si sa Io chiedo solamente una cosa Scrivetemi qui sotto nei commenti Cosa vorreste vedere sul canale Ma seriamente però, fate i seri Scrivetelo veramente Cioè proprio veramente Mettetemi col telefono, tanto ci vuole tre secondi Mettetemi col telefono a scrivere un commentino sotto il video Su un'idea di cosa vorreste vedere E cosa vorreste magari fare Perché comunque a me piace intrattenere la gente Vorrei farlo ma non ho idee Non ho niente ragazzi E niente questo video era solamente un video d'emergenza Un tappabuchi per dirvi che non ho più idee Che non porterò più gaming sul canale Certo, gaming non so se riuscirò a non portarlo più Forse ci sarà qualche episodio lì Tacate tacate Forse per tappare un po' i buchi con il gaming Però fidatevi, ho smesso Ora, basta